Nel pomeriggio di oggi, come racconta la Laziosiamonoi.it, si è svolto a Villa San Sebastiano un incontro fra Caudilo Tito, Iglitare e il presidente del Genoa, Enrico Preziosi. I rapporti fra i due presidenti sono ottimi e secondo il portale Bianco Celeste è possibile che si sia parlato di Leonardo Pavoletti, attaccante per il quale Genoa chiede una cifra vicina ai 15 milioni. La Lazio, per abbassare il prezzo, potrebbe provare ad inserire nell'operazione anche uno fra Gentiletti e Maurizio. Residenz Traiano, sulla via Sublacense, immerso nel verde con tutti i comfort e per il vostro piacere un ristorante ad hoc. Prenotate e ricordate il Tribunale delle Romane, avrete uno sconto del 30% su pernottamento e ristorante. Residenz Traiano, per evadere a due passi dalla vostra città.